Archiviata la manifestazione ne avete un'altra però a Cavazzo Cardin, come parliamo di ieri? Ieri sera si è svolto il secondo triathlon sprint infrasettimanale serale, primo in Italia in questa tipologia di gare fatte durante la settimana. L'abbiamo organizzato con la Reaction Triathlon di Porcia e hanno partecipato nomi illustri come la CNET che ha fatto le Olimpiadi e Casadei, quindi atleti di alto livello. Atleti che hanno affrontato che prove? Le prove consistono in 750 metri di nuoto, quindi 15 vasche da 50 in piscina, nel parco delle piscine Torviscosa, 20 chilometri di bici e 5 chilometri a piedi, tutto all'interno della città di Torviscosa. Chi ha prevalso? Ha prevalso tra le donne appunto la Daniela CNET dando ben 9 minuti alla seconda, ma parliamo di una ragazza olimpionica. Tra la categoria maschile Francesco Cautz dalla Venezia e Casadei, quest'ultimo anche atleta nazionale delle Fiamme Oro. Ecco, voi avete un supporto importante? Il supporto che ci aiuta in tutte queste manifestazioni è Enzo Cussig della Cussig Bike che crede nel triathlon e continua a mantenerci in tutte queste iniziative. Ecco, a Cavazzo invece? Cavazzo, sabato e domenica ci sarà l'Extreme Weekend organizzato col Cussudine Triathlon e consiste in una gara di duathlon, quindi 5 chilometri a piedi, 20 di bici e 5 a piedi e il triathlon Xtreme della domenica con la crono scarata sul San Simeone e la corsa allo Sky Race in quota.